Raccontare quasi tre mesi di esperienza di studio a Los Angeles è un'impresa difficile, forse impossibile. Mi chiamo Thomas, ho 23 anni e studio scienze linguistiche. Ho avuto l'opportunità di vivere all'estero grazie a una borsa di studio dell'Istituto Tognolo che mi ha permesso di frequentare una delle università più famose al mondo. Tradotto, ho trascorso 11 settimane alla University of California in Los Angeles la famosa UCLA, scegliendo tre corsi fra quelli che ho fatto dall'Eteneo. Avete presente a Los Angeles dei film quella di Hollywood e di Venice Beach, quella di Malibu e degli studios? Beh, io ero lì e la città degli angeli è proprio così, anzi molto di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.